Continua a ritmo serrato la preparazione in casa della città di Cosenza Tubisider che vuole arrivare al confronto di sabato con la Sissi Roma al massimo della condizione. Troppo importante la partita, troppo ghiotta l'occasione di affrontare in casa le Romane per lasciarsela sfuggire. Sforzi dunque proiettati verso un unico obiettivo, la vittoria. Ci giochiamo la salvezza in casa con una squadra che abbiamo battuto pure fuori casa. Questo non può essere sicuramente un alibi ma è certamente un punto di partenza serio. Loro verranno a giocarsi la partita qui a Cosenza consapevole che l'unica speranza che hanno di poter rimanere in A1 è quella di vincere. E quindi sarà sicuramente una partita tirata, una partita che bisogna giocarla oltre che con le proprie forze ma anche in modo particolare con il cervello. Da parte di tutti noi e da parte delle atlete in modo particolare. La cosa importante è che la cittadinanza, la provincia, la regione non può che darci una mano in termini di presenza sugli spalti, in termini di aiuto da questo punto di vista perché noi siamo l'unica realtà in Calabria che è in un campionato di massima serie quindi è una cosa che ci teniamo tanto a rimanerci. Con questo presupposto poi si possono fare anche tanti discorsi perché il campionato di quest'anno ci servirà e ci è servito a capire che tipo di squadra dobbiamo allestire il prossimo anno. Noi sicuramente siamo avvantaggiati nel poter giocare in casa ma questo avvantaggio lo dobbiamo avere anche con una forte presenza sugli spalti della piscina di Campagnano perché è indispensabile che queste ragazze vadano incitate nel modo giusto e in modo abbastanza diciamo caloroso.